A quanto pare abbiamo un piano. Resisti, piccola. Ok, Samantha. Abbiamo costruito i bastoni. Dov'è questo portale per Agarta di cui parli tanto? Da adesso allora dobbiamo fare da soli. Accendiamolo. Dobbiamo farlo funzionare. Vediamo se funziona. Almeno sono ancora tutto intero. Quasi a secco. Qui sono a corto di colpi. Mi restano pochi colpi. Ho i colpi contati. Servono munizioni. Colpi finiti. Munizioni finite. A secco? Ci mancava solo questa. Senza colpi sono fottuto. A cazzo, sono a secco. Ehi, dove te ne scappi? Te ne vai? Non potevi farlo quando toccava il crucco. Ah, adesso dovrò trovarti di nuovo. Quando farò rapporto ai miei superiori, di sicuro mi faranno internare. Bello scherzo del cazzo. Davvero può volare. Chissà quali altre diavoleria ha in serbo per noi il crucco. Così dovrebbe andare. Secondo il crucco fa parte di una macchina volante? Servirà a costruire qualche arma assurda. Meglio tenerlo. Nel caso il crucco dica la verità. Porca puttana. Allora il crucco non scherzava. Mi sa che è quasi finito. Basta aggiungere questo pezzo e il gioco è fatto. Questo pezzo servirà pure a qualcosa. Il problema sarà mettere insieme tutti i pezzi. Credo che mi tornerà utile. Ok, questo scudo mi aiuterà a respingere gli zombie. Mettiamolo in moto. Occhio alle spalle, ci sono addosso. La luce, la luce. Questi bastardi saltano fuori dal nulla. Eric Tofen, questa è un'altra delle tue assurde macchine? Non capisco. È una cosa assurda. Dobbiamo capirci qualcosa. Non andrà da nessuna parte. Dobbiamo farlo raffreddare. Il motore è surriscaldato, dobbiamo aspettare. Non ti dai per vinto. Hai perso le gambe ma non l'appetito. Non puoi strisciare affanculo? Hai ancora fame? E smettila di strillare. L'ho fatto per il tuo bene. Buonanotte, pezzo di carne marcia. Mi ero quasi dimenticato di te. Quel tappo è ancora vivo. Quelli non capiscono quando è ora di smettere. Perché non vuoi morire? Poi ammazzerò anche il resto. Consideriamolo una ricompensa per i nostri servigi. Bomba in buca! Beh, ho appena trovato un'altra pistola. Ho trovato qualcosa di interessante. È il pezzo di una specie di bastone. Merda! Il tumulo. È lì che li avete visti la prima volta. Ah, merda. Riktofen, non ci hai detto che erano corrazzati? Uno di quei robot ci ha quasi schiacciati. È la prima volta che lo vedo bene. Porca puttana. Abbiamo un mezzo se dovesse servirci. Più avanti c'è un carro. Cos'è? Uno scherzo? Com'è possibile? Spariamo alla testa. Sembra funzionare. Mi sfugge qualcosa? Non mi serve. Ho già abbastanza medaglie. Ok, dottore. Perché non ci racconti cosa avete combinato qua giù? L'area sembra contaminata da una sostanza ignota. Il nemico ha sviluppato istinti primordiali che sfocciano in atteggiamenti irrazionali e altamente aggressivi. Raccomando di stabilire una zona di isolamento fino a nuovo ordine. Rilevate tracce di elevata meccanizzazione delle forze tedesche. Indagini conoscitive ostacolate dai nemici infetti. Credo che siamo nella testa del robot. Immagino che abbia funzionato con il pilota automatico da quando l'equipaggio è stato ucciso. Ah, me ne vado! Questione risolta! Sono stanco di girare. E questa musica da dove viene? Rapporto. Arrivo confermato presso il sito indicato. Nessuna traccia dell'obiettivo né degli altri agenti in presunta convergenza. Dempsey chiudo. Il dottor Richthofen, giusto? Ti porterò via da qui. Se i convertitori ci daranno qualche speranza di sopravvivenza in più, io mi fido del crucco. A quella ragazzina manca qualche rotella. Se non fai come dice lei, va fuori di testa. Abbiamo il nostro da fare qua giù, ragazzina. Sarebbe molto più facile se sapessimo esattamente cosa fare. Dovresti mostrare più gratitudine. Sto rischiando la vita per te, ragazzina. Ci sto lavorando, piccola. C'è ancora parecchia strada da fare. Resisti. Riusciremo ad aprire questo cazzo di passaggio. Dammene uno. Non ha senso, ma lo prendo. Ne prenderò uno, grazie. Andrà benissimo. Li ha fatti Richthofen? O c'entra la bambina? Sembra una specie di trasmettitore. Ma... A cosa serve? Nicolai ha appena avuto fortuna. Sicuro che stavi mirando lui, Nicolai? Ehi, russo! Come hai fatto? Ehi, quello deve essere un mostro particolarmente idiota. Perché non lo fai sempre, russo? Avanti, Nicolai! La madre patria sarebbe fiera di te, Nicolai! Ti sei fatto valere, Nicolai! State indietro, bastardi! Nicolai si sta scatenando! Nicolai si sta dando al massacro! Non dovresti essere un dottore, Richthofen? Forse dovresti proporti per ricucire la ferita. Qual è la diagnosi, dottore? Colpo fortunato? Non so dove stessi mirando. Altri esperimenti sul cervello, Krukko? Direi che Richthofen se la cava a sparare. Ehi, Richthofen! Continua così. Bel colpo alla testa, Richthofen! Per fortuna Richthofen è dalla nostra. Almeno finché non finirà questa merda. Sei un figlio di puttana senza cuore, Richthofen. Inizia a piacermi. Perché non lo fai più spesso, Takeo? Takeo non è abituato a mettere a segno colpi alla testa. L'hai fatto davvero, Takeo! C'è poco da vantarsi per un solo colpo alla testa, Takeo. Merda, Takeo! Quello schifoso voleva proprio morire. Ogni minuto che passa, Takeo sembra sempre più un vero samurai. Non ci ha capito niente, Tak! Ben fatto, Tak! È questa la via del guerriero. Takeo non sbaglia un colpo con la sua spada. Sei un gran tiratore, Takeo! Non possiamo subire perdite. Datti da fare, abbiamo una guerra da vincere. Ecco fatto. Che c'è? Te la fai addosso? Devi tornare a combattere. Cerca di non fare tutti questi errori. Ti lascio vivere. Se le cose si mettono male, ti userò come esca. Combatti troppo bene per lasciarti morire. Non ti lascerò andare. Non quando ne ammazzi così tanti. Ma che? Avete sentito anche voi una ragazzina? Di nuovo? Mi senti piccola? Dove sei? Non ricordi cosa ha fatto. Qui brancoliamo nel buio. Cosa sai della bambina Richtofen? È qui in trappola da qualche parte. Ingoia! Ce l'avete con me? Non vincerete mai. Hai finito di sbavare. Via dalle palle, coglione! Levati dalle palle! Ti avevo nel mirino. Hai varcato la linea. Il tuo primo errore è stato toccarmi. Il secondo, non filarti la via. Non poteva finire diversamente. Con questo ho chiuso. Non sono in vena di cazzate. Grazie dell'aiuto. Bel colpo. Così ho molti meno mostri con cui vedermela. Può bastare. Un botto che non lascia scampo. L'esplosione li ha fatti in mille pezzi. Bruciate, figli di puttana. All'inferno brucerete ancora meglio. Bruciate, bruciate! Avvicinatevi ancora e ve lo pianto negli occhi. Siete caldi, state bruciando! Se qualcuno mi cerca, ditegli che Dempsey si sta scatenando. Avete caldo, schifosi figli di puttana? Non potete sfuggire a queste fiamme. Raderò al suolo questo posto se necessario. Se giochi col fuoco finirai per bruciarti. Voi avrete caldo, ma io non sto neanche sudando. Le fiamme dell'inferno non sono niente in confronto a ciò che vi sto facendo. Tieni pure il proiettile. Indovina un po' chi ti ha ammazzato. Stavolta muori per davvero. Neanche te ne sei accorto. Adesso sei cibo per i vermi. Ti è piaciuto? Ecco come si fa, cazzo. Smettetela di sfidarmi o vi sfondo il cranio. Ci so fare con sta roba. Vi congelerò tutti! Ah, che succede? Vi sentite un po' fragili? Sapete che c'è? Non vi scongelerete mai! Forse starete più al caldo all'inferno. Mai sentito parlare del cocito? Ora finirete in mille pezzi. Preparatevi a una nuova era glaciale. Mi sembrate un po' freddi. Per voi sarà un inverno lungo e rigido. Sono un figlio di puttana dal cuore di ghiaccio, quando voglio. Fila via, mostro! Sei una merda! Capito? Ti faccio a pezzi! Fin troppo facile! Stai giù, cazzo! Ti condanno alla sedia elettrica! Abituatevi, mostri! Un fulmine può colpire due volte! Quando colpisco... Colpisco duro! Ho la mia fonte di energia personale, proprio qui! Pezzi di merda! Vi friggerò tutti! Non temete schifosi o fulmine a sufficienza per tutti! Preparatevi, è in arrivo una tempesta! Morite da soli o insieme, che me ne frega! Come ci si sente a trovarsi in mezzo a una reazione a catena? Che vi dicevo, un fulmine può colpire due volte! Raccogliete i denti mentre me ne andate! Avete fatto incazzare quello sbagliato! Ora sapete cosa sanno fare i miei pugni! Fuori dalle polle! A terra, stronzo! Venite pure, ce n'è per tutti! Questa me la tengo ben stretta! Come fa a sparare senza il minimo rinculo? Cosa pensavi di fare? Mai usato un'arma migliore di questa? Ehi, Kruko! Dove hai trovato questo affare? Inizia a fare caldo? Mostri fritti pronti! Scateno l'inferno! Arrendetevi, mostri! Non riesce ad attraversare tre scariche, vero? Voi, mostri, siete finiti! Prima crepate e prima potrò andarmene da qui! Non mi avrete! Non oggi! Avete fatto incazzare il marine sbagliato! Non capite! Io sono addestrato per questo! Questa è una guerra che non vincerete! Fatevi sotto, figli di puttana! Se non sopportate il calore, state lontani dal lanciafiamme! Dovreste abbassare la testa, mostri schifosi! Avete caldo? È il nostro lanciafiamme! Non riuscite a stare in piedi? Il bastone del vento vi spedirà direttamente all'aldirà! Sapevate che in un modo o nell'altro vi avrei spazzati via! Non potete resistere a questa tempesta! Il vento soffia e si porta via tutti voi bastardi! Quel tornado vi mangerà e vi risputerà fuori! Come ci si sente a trovarsi nell'occhio del ciclone? La tempesta non si fermerà finché non lo dirò io! Dovreste aggrapparvi a qualcosa! Non potete sfuggire alla tempesta! Quindi immagino che dobbiamo far funzionare i convertitori! Può bastare! Spero di non incontrarne molti altri! Bene, è andato! Finalmente! Lo stronzo è andato! Cazzo! Questi mostri diventano delle belve quando sono in quelle tute! Sono rimasto indietro! Dove cazzo andate? Merda! Non sono sul carro! State pronti! Robot in arrivo! Quello stronzo è tornato! E non è solo! L'abbiamo fatto incazzare! Sta tornando! Sono un po' al verde! Ho capito! Tornerò! I prezzi li ha decisi il crucco! Tasche vuote! Soldi! Cazzo centrano i soldi in questa storia! Qui sono nei guai! Sono nella merda! Ho nemici in arrivo! Come sono finito in questo casino! Qualcuno venga a coprirmi! Qui si mette male! La mia tattica è andata puttane! Mi volete? Venite pure, stronzi! Sono troppi! Dove cazzo siete finiti? Non perderò contro dei figli di puttana! Non credo che fosse la cosa giusta! Forse dobbiamo fare qualcos'altro! No! Non funziona! Cos'è stato? Dovevamo fare così? Devo aver fatto qualcosa! Sembra speciale! Come è possibile? Queste armi... È come se non fossero di questo mondo! Devo provare! Allora il crucco aveva ragione! Questo sì che è un potenziamento! È come avere un giubbotto antiproiettile! Non capisco che nesso ci sia con la mia capacità di carico! Adesso vedremo qualche K.O. O un pugno di ferro! Oh, sto già menando le mani! Bah! Speriamo che almeno funzioni! Avevo dimenticato il sapore dello zucchero! Le mie razioni sanno di merda! Cosa cambia? Io so già correre per 10 chilometri armato fino ai denti! Cosa mi ha fatto? Questo cervello viene dal cadavere che il crucco aveva nel suo bunker! Spero che questo cristallo valga tutti gli sforzi per trovarlo! Allora è questo l'antico bastone, eh? Bene! Cosa abbiamo qui? Potrebbe sempre tornarmi utile! Potrebbe servirmi! Lo prenderò! Non si sa mai! Dovrà pur servire a qualcosa! Sembra decisamente fuori posto in una zona di guerra! Ok, bastone! Vediamo cosa sai fare! Vediamo se il bastone del fulmine mantiene le promesse! Questa registrazione significa qualcosa! Una pala può sempre servire! Dopotutto questo è uno scavo! È il pezzo di un bastone! Un frammento di bastone! Ho trovato un pezzo di bastone! Scommetto che questo bastone li spazzerà via! Se la bambina ha ragione, questo dovrebbe andare qui! Adesso siamo tutti belli carichi! Non chiedetemi come, ma adesso siamo pieni di munizioni! Ora sparerò all'impazzata! Sparpagliamoci e troviamo la cassa! Finché siamo in tempo! Approfittiamone per rifornirci come si deve! Ottimo! Troviamo la cassa e armiamoci fino ai denti! Sono pronto a fare sul serio e voi? Hai fatto tu questi intrugli magici, Crucco? Ho il sangue che ribolle! Datemi qualcosa da uccidere! Saranno state almeno due quintali di esplosivo! L'esplosione ha fatto piazza pulita! Cazzo! Chi ha chiesto il supporto aereo? È come... Sì, come indossare una mimetica! Questo non ce l'hanno insegnato al corso d'addestramento! Questa puzza che ho addosso... Credo li faccia allontanare! Sequenza di apurazione! Che vuol dire? Questo li tratterrà per... Dieci secondi? Non li terrà alla larga per molto! Uno dei convertitori è sotto attacco! I mostri stanno attaccando i convertitori! Quei mostri ci hanno dato dentro, ma almeno siamo riusciti a resistere! Bene, quei figli di puttana sono andati! Come la apriamo? Mi sdebiterò! Adesso mi sentono! Grazie per il supporto! Cosa faresti senza di me? Hanno solo avuto fortuna! Sono diretti ai convertitori! Non devono prendere quel convertitore! Credo che questo elmetto mi abbia appena salvato la vita! Ha ha! Il robot l'ha ridotto in poltiglia! Sono a terra! Il piede del robot mi ha quasi ammazzato! Aiuto! Quel cazzo di robot mi ha quasi ammazzato! Ha ha! Avete visto quel mostro che veniva schiacciato? Nessuno ha voluto dare una mano, eh? Pensavo fosse finita! Poi sei arrivato tu! Sei il mio salvatore! Tieni a bada gli artigli! Mi ha preso! Quel figlio di puttana potrebbe abbattere un palazzo! Credimi, ragazzina! Impedirò ai tedeschi di avere queste armi a costo di far saltare in aria questo posto! Te lo rispiego! Merda! Guardate! Bisogna disattivare l'artiglio! Sparate al braccio! Mirate al braccio! Sparategli in testa! Serve un colpo alla testa! Alla testa! Sparate alla zona luminosa! Credo sia la sua fonte di energia! Non riuscirò mai ad abbattere quell'affare! Sparare è inutile! Da dove vengo io, una sirena non porta mai buone notizie! Arrivano altri mostri corazzati! Riecco i nostri amici giganti! Attenzione! Stanno tornando gli stronzi corazzati! Perché non provi con la spada? Non verrò a salvarti il culo! Mi dispiace, Russo! Con quelli dovrai arrangiarti da solo! Tra poco, Nicolai conoscerà il suo creatore! Te la sei cercata, Russo! Non verrò a salvarti il culo! Resisti, Nicolai! Puoi farcela! Il Russo non deve morire! Falli fuori tutti, Nicolai! Nicolai, non farti mettere alle strette! Coraggio, Russo! Proverò a distrarli! Ah, Richtofen si è cacciato in un mare di guai! Il Krukko rischia di diventare come i suoi amici non morti! Avrai quello che meriti, Richtofen! Aiutiamo il Krukko o restiamo a guardare? È colpa tua, Krukko! Tutta colpa tua! Non vorrei essere al tuo posto, Richtofen! Ce l'hanno con Richtofen! Il Krukko ci serve vivo! Dobbiamo aiutare il Krukko! È l'unico che può dirci cosa sta succedendo! Tieni duro, Richtofen! Ti aiuterò come posso, Richtofen! Dovrai arrangiarti, Tak! Se devi crepare, almeno fallo da uomo! Takeo non è messo benissimo! Scusa, Takeo! Salvarti il culo non è la priorità! Dobbiamo aiutare Takeo! A Takeo serve fuoco di copertura! Resisti, Tak! Farò il possibile! Dobbiamo togliere Takeo dai guai! Tak non può morire! Abbiamo bisogno di lui! Ah, merda! Mi muova malapena con questo fango! Questo fango schifoso mi rallenta! Penso di aver capito! Pazzesco! La cassa ha sputato un'arma! Abbiamo lasciato indietro qualcuno! Ah, merda! Nicolai è rimasto indietro! Mi dispiace, Richtofen! Dovevi correre! Takeo non è arrivato al carro armato! Voglio veder bruciare tutto! Richiedo il fuoco! Bersaglio individuato per il fuoco di supporto! Ok... Vediamo stavolta cosa mi dai! Vediamo se il trucco diceva il vero! Attenzione, il robot si avvicina! Attenzione, il robot si sta avvicinando! Via da lì! Via! Avevo in mente qualcosa di molto più potente! Perché mi ritrovo con queste armi scadenti? Questa roba non risolverà i nostri problemi! È come se qualcuno volesse prenderci per il culo! Quasi quasi spacco la cassa e prendo quello che mi pare! Grazie! Ne prendo due! A questo punto, perché non due mitragliatrici? Li ammazzerò due alla volta! Non fare la ruffiana con me, cassa! Non attacca! Ci vuole abilità e coordinazione per usarne due! Ha ha! Con gli esplosivi vai sempre sul sicuro! Che ne dite di una bella esplosione, bastardi? Potrebbe essere utile! Vediamo come se la cavano contro gli esplosivi! Così dovremmo risparmiare un po' di munizioni! È abbastanza potente! E non troppo pesante! Com'è la cadenza di fuoco? Immagino piuttosto altina! Mai viste queste armi! Verranno da un progetto segreto dei crucchi! Finalmente è un'arma come si deve! Si direbbe una mitragliatrice Gatling modificata! Esplosivi legati a una scimmia! Quel tedesco è fuori di testa! I mostri trovano irresistibile questa piccolina! Ok, sacchi di vermi! Vi farò giocare con la mia scimmia! Ah, chissà se hanno costruito un prototipo con una vera scimmia! Ma che cosa è? Una specie di scherzo! Non sembra un'arma d'ordinanza! Ma è pur sempre una pistola! Quanti colpi ha? Sei? Me ne servono di più! Queste pistole hanno una potenza niente male! Ok, cassa! Torno al lavoro! Ho un'armata di zombie da ammazzare! Vada per la pistola! Ma preferivo un fucile! L'ho già vista! Forse in qualche fumetto si può sapere chi hai combinato qui, crucco! A prima vista di sicuro non spara proiettili! Se i crucchi ci mettono le mani sopra, per noi saranno dolori! Ah, qui c'è qualcosa che non mi torna! Devo scoprire cosa! Guarda, guarda! Il fratellone della pistola raggi! Un'arma a tre scariche di energia! Niente male! Continua così, scatola! Merda! Adesso sì che ci divertiamo! Le armi potrebbero dare un grande vantaggio bellico ai tedeschi! Oh, mi piacerebbe portarmi a casa un po' di questi arnesi! Mai visto un fucile come questo? Da dove sbuca? Oh, un fucile! Li uso da quando ero ragazzino! Devo scoprire cosa sa il crucco di tutto questo! Datemi un fucile e sono a posto! Un fucile a pompa? Perfetto! Bene! Mi piace andare sul personale! Se usato a corto raggio, li trancerà di netto! Meglio un fucile oggi che cento di quelle puttanate domani! Pioveranno pezzi di merda su tutto il fronte! Prendi nota, cassa! Questo è il tipo di arma che voglio! Ti è andata bene, cassa! Ero già pronto a farti ingoiare una granata! Non è un po' troppo leggera! E che munizioni devo caricare? Se i crucchi fossero armati con queste, la guerra prenderebbe una bruttissima piega! Con questa aprirò un sacco di buchi in quelle merde non morte! Non so nemmeno se avrò il tempo di prendere la mira! Non è qualcosa di più potente! O almeno di più efficace a corto raggio! I colpi singoli non servono su questo fronte! Dovrò trovarmi una postazione di tiro! Così forse servirà a qualcosa! Almeno non dovrò avvicinarmi troppo! Li farò fuori uno a uno da lontano! Eh! Sparita! Spero che cambi le cose in meglio! Non mogliamo! Continuiamo a uccidere quei bastardi! Voglio vedere che succede! C'è un collegamento con la nostra bambina? Qui sta succedendo qualcosa! Tutti i convertitori sono operativi! Qui sta succedendo qualcosa di più potente!